l'enna apertura 2013 momentaneamente sono oro momentaneamente calma grande rocciosi guarda qui te ha da te roby l'ale hanno visto una una toccata roby prima e l'ale gli è scappata una un tonno prima è un tonno oro momentanea calma o morbido e umile temperatura primaverile che bel campare english katana katana no perché katana che bel campare il tutto sentito da un inglese con galleggiante trabucco sempre mido sopra bel campare vi aggiorniamo dopo ragazzi